Vi dico con piacere che dalla parte delle associazioni musulmane è venuto chiaro e forte anche un segnale che noi riteniamo molto importante che riguarda la lingua, la predicazione, secondo noi dovrà avvenire in italiano. Questo è un punto molto importante per noi. La predicazione in italiano è il modo per abbassare ogni frontiera e ogni diaframma che separa l'idea della religione musulmana dall'idea di una piena cittadinanza attiva italiana. Questo è molto importante e a questo si abbinano un'altra serie di cose che poi vi saranno anche spiegate tecnicamente se vorrete saperle da coloro i quali sono stati i protagonisti anche di questo lavoro. Ma in primo luogo quello che io voglio dire è che a coloro i quali accetteranno di essere imam tra virgolette italiani sarà dato uno statuto che permetterà loro di darci una mano d'aiuto. Mi riferisco all'ingresso in luoghi particolari come le carceri per evitare la radicalizzazione nelle carceri o come negli ospedali o come in altri luoghi protetti. L'altra idea è quella di una costituzione provincia per provincia italiana, prefettura per prefettura italiana di tavoli interreligiosi in modo tale che il monitoraggio su quel che accade e al tempo stesso il contributo delle comunità islamiche locali possa diramare i propri effetti a livello periferico in termini molto molto efficaci perché è appunto tutto sotto un monitoraggio che avviene in un territorio molto ristretto.